Mi sono distratto. Appena un secondo. Lavoro? Posso tornare in servizio? Lei si sente pronto? È l'unico modo per non impazzire. Che abbiamo? Vorrei segnalare una rapina. La rapina è in corso al momento? Sarà oggi. Quel tipo sulla panchina. Ha da accendere? Quello ha in mente qualcosa. Fa molto caldo oggi. È un vero forno. Che caldo. È un vero forno. È una cassetta di sicurezza. È l'obiettivo? Cassetta 23. Papà? Mani in alto! Ma sono l'uomo sbagliato. Dov'è lei? So che ha fatto lei la soffiata sulla rapina in banca. Ma chi è lei? Cosa spinge quattro sconosciuti a mettere su un elaborato colpo in banca? Per caso ha mai sentito parlare di ipnotici? Ipnotici? Gli ipnotici hanno la capacità di influenzare un cervello. Suono. Voce. Vuoi da accendere? Guardare negli occhi. Segnali che gli ipnotici usano per far vedere una versione del mondo. Che in realtà non esiste. Nix. Ormai non è più lui. Devo sapere tutto. Perché io? Perché mia figlia? Tu non sai con chi hai a che fare. Quello che vedi non è reale! Gli ipnotici ti fanno sembrare quello che vedi o fai... ...perfettamente normale.